Le strutture appartenenti oggi al mondo o delle congregazioni o delle diocesi in qualche modo appartenenti al mondo della Chiesa sono in fase di grande revisione, di una grande revisione perché devono capire la sanità di oggi qual è il loro ruolo. Sono nate come opere di carità per assistere coloro che non avevano assistenza. Oggi c'è un servizio sanitario nazionale che teoricamente dovrebbe assistere tutti e quindi l'interrogativo che facciamo porre loro è soprattutto questo. Che cosa devono essere? Per l'ospedale che io presiedo certamente è un ospedale di grande eccellenza dove c'è una grande ricerca scientifica dove le persone vengono qualche volta guarite, sempre curate, anche con molta capacità di relazione. Ma non tutti sono ospedali così grandi, non tutti sono ospedali con queste potenzialità. E quindi probabilmente soprattutto per quelli più piccoli bisogna creare una rete, bisogna creare un sistema di governance e bisogna soprattutto pensare a quale può essere il loro futuro. Non soltanto in termini di sostenibilità economica, che alla fine si possono anche chiudere, ma invece in termini proprio di fedeltà al loro carisma, di fedeltà al servizio che la Chiesa ha sempre chiesto loro di assistere coloro che sono più poveri, coloro che hanno meno possibilità. Molte volte non sono possibilità economiche ma sono anche solitudini, sono incapacità relazionali, sono malattie delle quali nessuno si vuole occupare.